Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come vedere il contatore del download e upload in megabit, ovviamente grazie a questa applicazione che si chiama NetSpeedMeter, la trovi direttamente su Microsoft Store, tu la scrivi direttamente qua sopra, quindi scrivi NetSpeedMeter, la installi e automaticamente si aprirà così questo contatore, e se vai sull'applicazione, la trovi qua come icona, nelle icone qua sotto, tasto destro o tasto destro sopra, e qui puoi anche fare un test della velocità della connessione, come puoi vedere sta facendo un test della connessione, puoi anche far ricordare all'applicazione dove posizionarsi, tipo quando il contatore deve segnare così, se lo possiamo chiudere, tipo per esempio se io chiudo questa applicazione e vado ad aprirla, il contatore mi esce qua sotto ed è veramente molto colto, quindi se questo video ti è stato utilissimo, un piccolo tutorial su come usare un contatore per il download e upload sul desktop, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!